Giornata di presentazioni ufficiali, quella di Davide Bettella, difensore classe 2000 dall'Atalanta, e di ricordi per il presidente Daniele Sebastiani. Il numero uno della società Biancazzurra ha raccontato qualche aneddoto sui dieci anni di presidenza, con uno sguardo all'attualità, ovvero al mercato, e al prossimo format del campionato di Serie B. Le parole di Daniele Sebastiani e del neo-arrivato Davide Bettella. Io ricordo benissimo i primi tempi della società, della prima società, con Peppe, Deborah, Maurizio Antonio Edmondo, ma tanti altri amici, Alessandro Arciavatti, Pirocchi, Ditieri, eravamo Bancoschi che è rimasto ancora oggi, veramente un bel gruppo. È chiaro che sono stati fatti all'epoca degli errori gravi, dal punto di vista proprio forse dell'inesperienza, forse anche di un pizzico di presunzione da parte di qualcuno, che non hanno consentito a questi di continuare il loro percorso. Mi dispiace perché, ripeto, siccome è una cosa che avevamo iniziato insieme, e sono tutte persone degne, e soprattutto persone con le quali io mantengo tuttora ottimi rapporti, mi dispiace perché questa poteva essere una società veramente di pescaresi, tutti pescaresi, importanti anche, se solo magari qualcuno avesse creduto a quello che questo povero disgraziato predicava da dieci anni a questa parte. Presidente, l'ultima. Lei ha detto in conferenza un'altra cosa molto importante. Il prossimo format potrebbe essere a 20 squadre in accordo con Gravina, però, viste le norme per l'iscrizione al prossimo campionato, bisogna essere preoccupati. Perché? Che cosa sta succedendo? No, preoccupati perché giustamente la federazione vuole evitare la nuova governance della federazione, di cui il presidente è il nostro caro amico, e l'abruzzese Gabriele Gravina. Io credo che bene abbia fatto a cercare di mettere dei paletti importanti. È chiaro che i paletti poi quando si mettono oggi per domani sono sempre un problema perché bisogna rincorrere situazioni che invece vanno avanti da anni, però ha fatto bene perché secondo me il calcio deve essere sostenibile, non deve creare più problemi all'intero sistema, ma per fare questo bisognerebbe anche che nel prossimo futuro ci fossero molti più controlli, anche in tante operazioni sui giocatori, nel senso che se una società di serie B può prendere un giocatore con uno stipendio di un certo tipo, certi stipendi forse in questa categoria non sono più sostenibili. E' evidente che però ci sono società anche molto virtuose, nel senso anche di proprietà forti, che si possono permettere il lusso di comprare, io su quelle non sono assolutamente contrario che spendano soldi, perché se vogliono spendere e non creano problemi al sistema, a mio avviso possono fare tranquillamente. Il problema è stato e sarà di chi vorrà giocare ancora all'ascio raddoppio, che è una cosa che non si potrà fare più. Non sono preoccupato, però mi sono letto le nuove norme e le società dovranno stare molto attente, perché se non hai i parametri non ti scrivi. Quindi molto semplice. Dica proprio l'ultima cosa, nome secco, Tuminello, Scamacca, oppure chi sono gli altri profili? No, diciamo che i profili sono un po' questi, sono altri nomi che noi... L'altro, scendi con un altro. Ma no, non gli dico i nomi, perché poi fondamentalmente il Pescara se si muove su qualche giocatore poi arrivano tutti, quindi mi faccio i fatti miei. Quando arriverà l'attaccante lo presenteremo come abbiamo fatto oggi con Beltella.